bene ragazzi questo protanchino qua è stato rigenerato la sua testina è stata rigenerata con una mesh con una micro coil all'interno della mesh ho infilato un pezzettino di cotone e sopra come over week ho dovuto usare una normale week perché ho trovato quel cotone ma niente da fare continuava a versare liquido all'interno e quindi ho dovuto rinunciare ci ho messo una week non so provato non so tanto non so poco di mezzo ecco il cotone non sono riuscito comunque dunque a 10 watt questo affarino qua svapa così direi che per essere un protanchino funziona bene e niente che dire c'è un video su youtube basta che mettete mesh protank e viene fuori di quel tizio con la barba curatissimo con i denti perfetti l'unico che fa recensioni che ha le unghie perfette le mani non distrutte tagliate con le unghie zozze eccetera eccetera è l'unico lo riconoscerete benissimo adesso vi faccio vedere la testina la testina questa qua nella smonto ma smonto ecco qua ci togliamo over week che tanto poi ce la rimetterò non so se non so se riuscirete a vedere qui dentro c'è una mescettina e un po se accendo la luce ma pensa che non cambierà un granché qui dentro c'è una mesh con micro coil vabbè insomma o mi credete sulla parola o vi andate a vedere il video eh quello che vi posso dire è di seguire se volete provare a fare questa costruzione attentamente le istruzioni che ci sono nel video soprattutto per quanto riguarda l'ossidazione l'ossidazione della mesh della micro coil sulla mesh e poi il discorso di metterci la goccia di liquido sulla macro coil in modo che la mesh si allarga e vada aderire perfettamente intorno alla micro coil perché ovviamente non potendo poi eliminare gli off spot con toccando di qua e di la spire prima di tutto perché stiamo parlando di micro coil secondo perché comunque su una testina l'importante non è che puoi fare i numeri eh se non fate quello l'atomizzatore praticamente è in corto cioè e quindi non potete utilizzarlo quindi vi consiglio di sprecare un po' di gas e un po' di tempo per ossidare molto bene il tutto perché mi sa tanto che è l'unico sistema per farlo andare comunque devo dire che come potete vedere produce una discreta quantità di valore a me è venuto venuto da 1.7 come resistenza gli ho fatto dieci giri di filo resistivo cantal del 30 0 30 e la mesh è la classica solita che usiamo la 400 bene ciao a tutti alla prossima